Ed ora chissà e chi avranno scritto questa settimana a Sandro Giacobbe. C'è posta per Sandro? Sigla! E' arrivata anche per sbaglio una multa. Vabbè, comunque insomma sono quelle cose che non l'abbiamo portata in trasmissione, anche perché sennò dovevamo chiedere qui in trasmissione. Comunque andiamo avanti. Allora, caro Sandro, mi chiamo Roberta, ti scrivo da Pisa. Sono fidanzata da circa due anni con Luca, che ha una figlia di 15 anni di nome Lisa. Io e Luca ci amiamo molto e abbiamo un ottimo rapporto. Lisa invece non mi ha mai accettata e adesso che io e Luca abbiamo deciso di vivere insieme mi faccio mille domande e ho mille paure. Vorrei conquistarla ma non so proprio come. Non so se leggerai questa mail, come vendi e ce la leggo, ma se sarò fortunata ti prego dammi un consiglio. Un abbraccio e grazie Roberta. Caro Roberta, questi casi sono sempre più frequenti perché chiaramente le coppie di fatto da molti anni oramai aumentano sempre di più. Ci sono famiglie che si disfano ma anche tante altre famiglie che poi si riuniscono e si riuniscono alle volte proprio anche con qualche problema come il tuo. Io credo che con un po' di buona volontà, con un po' di modo e con la voglia soprattutto di fare capire a questa ragazza che vuoi essere sua complice. Credo che prima o poi e piano piano il rapporto tra te e questa ragazza, Lisa, invece secondo me potrà funzionare. Perché inizialmente credo che da parte di un figlio o di una figlia ci sia sempre un po' di diffidenza nel sapere che il proprio genitore sta con un'altra persona. Ma insomma l'intelligenza proprio di noi che siamo un po' più grandi deve essere quella di riuscire ad entrare nella testa un po' nella volontà e nella voglia di far capire a questo figlio acquisito che non vuoi farle assolutamente da madre ma magari da amica. Quindi vedrai che piano piano le cose andranno bene. In bocca al lupo e a presto. Questa invece è una letterona lunghissima. Qua ci vuole un dieci minuti di trasmissione. Ciao Sandro, sono Daniela, ho 35 anni. Sono innamorata da due anni di un uomo che purtroppo è sposato e ha una figlia, anche questo. Il primo anno di relazione sono stato ad aspettare che lui prendesse una decisione nei confronti della moglie senza fargli troppa pressione, soprattutto per la sua bambina. Ora però ho bisogno di essere la sola donna per lui. Non voglio più dividerlo con nessuna, anche se lui dice che con lei non c'è proprio più niente. Ne ho parlato con lui più di una volta, ma ha sempre un buon motivo per dirmi che non è riuscito a parlarne con lei. A questo punto non so se farmi da parte o se aspettare che lui prenda il coraggio tra le mani e dica la verità alla sua forse ex moglie. Ho bisogno di un consiglio, grazie, un bacio e complimenti per la trasmissione. Daniela, lo so, a parte che scegliete qualche mail un po' più corte, che uno finisce, che gli è passata anche la fantasia. Però, al di là di questo, non è la prima volta che bisogna avere la pazienza. La pazienza di aspettare, oppure di capire veramente. Vai in fondo, provo a fare capire veramente se questa persona è proprio attaccata alla sua ex moglie, in questo caso, visto che non hanno proprio un rapporto così idiliaco, ma soprattutto a sua figlia, perché credo che le difficoltà maggiori di questa persona per abbandonare la sua famiglia sia proprio sua figlia. Quindi lui probabilmente è combattuto tra queste due persone che forse ama in modo assoluto, sua figlia e te. E quindi, insomma, qui devi essere un po' brava tu, o ad avere pazienza, accettare, ma senza, secondo me, fare pressione questa situazione, o se no, guardati veramente dentro, pensa se sei proprio innamorata di quest'uomo e dagli un po' di tempo, dagli un po' di tempo perché lui possa capire se formare con te un'altra famiglia, magari anche con sua figlia, e magari con una figlia o un altro figlio che magari desideri anche tu, oppure, se vedi che è proprio difficile, a malincuore, però certe volte conviene proprio interrompere queste storie per non trascinarsene per anni, provocando sofferenze a te, a lui, e un giorno che magari questa storia viene fuori anche sicuramente alla bambina. Quindi anche a te in bocca al lupo, e speriamo che vada tutto bene. Anche questa settimana ci sono tre mail, questa qua è la terza, e dice, ciao Sandro, sono Antonio, ti scrivo da Napoli, volevo chiederti un favore, siccome mia figlia che ha otto anni quest'anno farà la prima comunione, ho deciso di farle un bel regalo. So che tu sei molto amico di Eros Ramazzotti, gli potresti dire se può venire al ristorante a Posillipo dove festeggiamo la comunione verso maggio, poi gli dico la domenica precisa. Se si tiene quel giorno libero per venire a cantare due o tre canzoni, così fa felice a mia figlia. Tu che dici, ci viene? Anche perché non vorrei deludere a mia figlia. Grazie mille, Antonio. Antonio, ma secondo te, io sai che conosco bene Eros Ramazzotti, lui, fai conto che lui tutti gli anni, lui il mese di maggio, che sa che ci sono le comunioni in giro, lui proprio va nei ristoranti, va a trovare gente che scrive, dice mi viene a cantare, certo, lui proprio ha questa sua, proprio questa cosa, cioè noi facciamo magari nazionale cantanti, facciamo un po' di partite in giro per raccogliere solidarietà, ma no, lui tutti gli anni a maggio, quindi un po' di pazienza, tu manda preciso alla domenica, che noi gliela riferiamo e tu aspetta lì che lui due o tre canzoni te le canta. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.